Con il suo reddito ok? tre e quattro uno e due uno e due uno e tre, uno fura e qui uno e due cosa vuoi? c'è un cerchio guardiamo degli altri no no a questa la direzione no no a questa è la banda no e 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, tutti li abbiamo fatti? ma poi voglio riprovare una seconda volta che bisogna dire ok, altra prima variazione 1, 2, 3 quindi è 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 e basta anzi facile, eh? facile, facile allora quello davanti fate sempre provare le due parti stavolta quello davanti fa 1, 2, 3 1, 2, 1, 3 a parte il primo ne fai sempre due quello davanti fa 1, 2 1, 2 1, 2 la seconda metà del 2 non abbiamo imparato a contare bene in questo appuntamento però si lavare i numeri è utile se non va male qua qui si fa un po' male perché? è perché può me la correre ok, facciamo a prova la regla coppia e le mani è molto vicino adesso lo facciamo subito non c'è la domanda non c'è la domanda non c'è la domanda 1, 2, 3 no, tu fai 1, 2, 3 1, 2 non c'è la prima tu fai questo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 fa la seconda per te non c'è la condizione no, no, no capi non devo capi tu parti la prima certo se lo fai 1, 2 fatti a fare 2 e tu fai la prima e tu fai la prima e tu fai la prima 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 ah ah 1, 2, 3 1, 2, 3 e tu fai la prima 1, 2, 3 poi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 4, 2, 3 vai vai tutti che vogliono fare ci vediamo ci vediamo ci vediamo chi ha fatto avanti poi farà dietro e poi farà dietro e poi farà dietro e poi farà dietro e ricordo che la parte di chi sta dietro queste donne sono malizie se ne ha fatto avanti poi farà dietro questa mi avete fatta capire voi non lo capite e un po' d'altro un po' di ciò non ce ne faccio in chiusa e non ce ne faccio in chiusa e non ci so